La strada Pedemontana-Veneta avanza rapidamente ed è arrivato il momento di fare i conti con le ricadute dell'opera viaria sul territorio. Fra timori e dati, l'assessore regionale alla viabilità Elisa De Berti ha incontrato i sindaci delle aree coinvolte dal Maxi Cantiere. Oggi abbiamo presentato i primi flussi di traffico, i primi studi di traffico, che sono stati fatti in questi ultimi mesi, con, abbiamo sottolineato, le criticità, abbiamo visto dove sono i punti dove dovremmo intervenire e con i sindaci da domani verranno costituiti singoli tavoli tecnici per approfondire soluzioni ed eventualmente vedere come intervenire. Sul piatto le istanze di molti sindaci e previsioni su quanto accadrà una volta conclusa la Pedemontana. Pensavo ci sarebbero state molte più criticità di quelle che ci sono state presentate oggi, perché in molti casi diciamo che molti sindaci dicevano che Pedemontana avrebbe scaricato sul territorio l'inferno da un punto di vista di flussi di traffico, è emerso sostanzialmente che in molti casi la situazione decisamente migliora. Ecco quali sono le situazioni più gravi. Montecchio ovviamente è legato all'apertura del casello e dell'attacco alla 4, a Malo, è legato anche all'SP46 e diciamo la zona di Rosà. Con Rosà già abbiamo fatto stamattina un incontro con l'amministrazione e poi nelle prossime settimane si avvieranno proprio i tavoli tecnici.